Torna a grandissima richiesta, ovviamente non è vero, la rubrica sui film e sulla finanza. Anzi, a parte gli scherzi, in realtà è il contrario. Cioè, ho notato che gli altri due video che ho fatto in realtà non sono forse stati neanche tanto apprezzati, nonostante in realtà siano i miei preferiti. Infatti, gli altri due video che ho fatto erano su The Squid Game e su V per Vendetta. Quello che piace fare a me e quello che ho intenzione di fare su questa playlist è andare a parlare di concetti di finanza, di finanza personale, di economia, andando magari a fare dei parallelismi, degli esempi con dei film. La cosa particolare di questo format, che spero piaccia, per il momento in realtà non è ancora così, ma in realtà a me non interessa molto, né dei like né del resto. A me piace in realtà fare questa cosa perché piace a me. Poi, ovviamente, è inutile nasconderlo, spero anche che voi la appreziate. Però, insomma, il mio intento è quello di andare ad utilizzare dei film che però in realtà non parlano di finanza. Innanzitutto perché sarebbe abbastanza noioso. A me infatti fa impazzire questa materia, investimenti, finanza, economia, psicologia, psicologia comportamentale, tutto quello che riguarda questo ambito. Però ogni volta su YouTube, quando si parla di film in questo ambito, veramente mi cascano le palpebre, per non dire altro. Perché vengono sempre proposti gli stessi film. The Big Short, The Wolf of the Wall Street, insomma, più o meno sempre i soliti. Invece in questo format io voglio andare ad utilizzare dei film che in realtà non c'entrano nulla con la finanza. Infatti il video di V per vedetta, veramente poco apprezzato, ma secondo me veramente tanto bello, non parla di finanza. Ma nonostante questo ci sono riuscito a fare un video perché sono riuscito ad estrarre alcuni concetti da un film per andare a parlare di qualcosa. In quel caso di Bitcoin. Quindi prima di iniziare con questa puntata, che secondo me sarà veramente bella perché il film è veramente particolare e veramente tanto bello, secondo me. A parte il finale che lascia tanto a desiderare e quindi magari sporca un po' tutto il film. Però l'idea che ci sa la base è veramente geniale, è veramente intelligente. E quindi mi fa veramente piacere andarlo a commentare. Ho trovato degli spunti, penso, veramente tanto interessanti. Soprattutto l'ultimo. E non sto facendo il furbo che lo metto all'ultimo per cercare di tenere gli spettatori più incollati. Ovviamente no, lo metto all'ultimo semplicemente perché è l'ultima scena che sono andato a prendere. Ma secondo me è veramente bella. Perché il parallelismo che andrò a fare, secondo me è veramente azzeccato e soprattutto fa veramente tanto riflettere. Comunque sia, prima di iniziare, nel caso in cui tu avessi dei suggerimenti, non so, dei film oppure anche delle scene all'interno di un film che pensi si possano agganciare al mondo della finanza, finanza personale, economia, insomma tutto quello di cui parliamo in questo canale, lasciamelo nei commenti oppure iscrivimelo nel canale Telegram. Ho già ricevuto diversi consigli che ho apprezzato tantissimo e che infatti saranno le prossime puntate. Quindi nel caso commenta qui sotto. Prima di iniziare, come sempre, se ti piace questo video, questa tipologia, ti chiedo di lasciarmi un like oppure un commento. Perché mi fa piacere e mi aiuta con l'algoritmo di YouTube. Allora, il film di cui voglio andare a parlare oggi è In Time. Penso che, vabbè, si fosse capito dalla copertina, quindi nessuno spoiler. Ovviamente nei commenti che andrò a fare ci saranno degli spoiler perché vado a riprodurre alcune scene. Quindi nel caso in cui non lo avessi visto, magari vattilo a vedere e poi torna a vedere questo video. Allora, questa che ti metto a schermo tra qualche secondo è la prima scena. Le prime tre clip avranno dei commenti molto brevi, mentre l'ultima clip è quella che dicevo poco fa molto molto interessante che ha dietro tutta una storia anche del mondo reale. Quindi vediamo queste tre clip, commentiamole e poi andiamo a vedere la clip finale. La prego, signorina, meglio essere prudente. Ne sei sicuro? Una notte quanto costa? Due mesi, per una camera standard. Dammi una suite. Allora, parecchie persone potrebbero dire ma che scena ci ha fatto vedere? Cioè, non dicono nulla, al di là dell'attrice in sé e anche dell'attore. Effettivamente sono entrambi notevoli. Però insomma, questa scena in realtà nasconde un concetto che è molto molto insidioso di finanza personale. Infatti, qual è il concetto alla base di questa scena? Praticamente questo personaggio, nel caso in cui non lo ricordaste, viene da un ambiente estremamente povero. In questo film tutto quanto si paga con il tempo. Quindi non esiste il denaro, ma l'unica merce di scambio che esiste è il tempo. Le persone hanno una sorta di cronometro al braccio. Infatti avete visto che lui ha pagato con un aggeggio sostanzialmente che gli ha sottratto del tempo. E quindi l'unica forma di denaro è il tempo. Questo personaggio era poverissimo fino a qualche scena fa ed è ad un certo punto diventato improvvisamente ricco. La prima cosa che fa, qual è? Andare nella città più ricca di tutta quanta la nazione ed andare in hotel. Loro gli chiedono se voglia una camera normale e lui risponde subito voglio una suite. Allora, questa cosa può sembrare banale. Magari se non si è fissati e malati di testa come me che guarda queste cose e fa caso a tutti questi atteggiamenti, anche finti all'interno di un film, non può non far caso a quel tipico atteggiamento che in realtà tutti noi abbiamo anche nella vita reale e che è finanziariamente pericoloso. Perché tantissime persone che cosa fanno? Quando ricevono un aumento di stipendio, quando ricevono un bonus extra, quando ricevono insomma una somma di denaro maggiore rispetto a quella che avevano nel passato, la prima cosa che fanno è aumentare le proprie spese. Questa cosa è proprio insida dentro l'essere umano, la fanno tutti quanti. Ovviamente una persona potrebbe contestarla, potrebbe dire ho capito però la vita te la devi godere, se ti sei meritato un aumento è giusto darti un regalo. E effettivamente ci sta questo concetto, anzi è sacrosanto ed anche giusto. Ma quello a cui dobbiamo stare attenti, ovviamente se vogliamo puntare ad una stabilità finanziaria sempre migliore, se vogliamo accrescere il nostro patrimonio oppure diventare liberi finanziariamente, a che cosa dobbiamo stare attenti? Dobbiamo stare attenti che questa non diventi una rutina. Nel senso, quando riceviamo un aumento dello stipendio, dobbiamo fare massima attenzione a non aumentare costantemente le nostre spese. Insomma, se vogliamo accrescere il nostro patrimonio, l'unica cosa che dobbiamo fare è aumentare il nostro reddito e o mantenere le nostre spese uguali oppure diminuirle. Così almeno che quella differenza che sarà creata tra un reddito maggiore e le stesse spese, la potremmo risparmiare e poi investire. Questa sostanzialmente è l'unica maniera per arricchirsi, non esistono altre. Infatti, ricordiamoci sempre che se anche guadagnassimo 10 milioni all'anno, ma ne spendessimo 10, saremmo comunque schiavi del sistema. Passatemi il termine, so che è molto forte e che probabilmente riceverà diverse critiche, ma nel momento in cui noi spendiamo tutto quello che guadagniamo, saremo sempre costretti a correre. Correre dove? Correre al lavoro, correre a fare qualsiasi faccenda, correre magari appresso a un capo che ci tratta male. Insomma, quello che voglio dire, che non è che ovviamente lavorare è sbagliato, ma cercare di avere una sicurezza nostra finanziaria sicuramente, e questo penso sia indiscutibile, ci può far stare più tranquilli dal momento in cui ci mette in condizione di scegliere. Voglio lavorare? Allora lavoro. Voglio invece rifiutare quel tipo di lavoro che veramente non mi aggrada o che magari mi umilia, mi sminuisce, che comunque magari non è adatto alla mia persona? Bene, lo posso fare. Ma questo lo possiamo fare solamente se non caschiamo in questa trappola, nella trappola in cui l'attore in questo film è appena cascato, ovvero aumentare le spese all'aumentare del nostro patrimonio. Ora, il primo pippone è finito, però penso sia molto interessante, perché questo film può sembrare una scena banale, anzi, sicuramente il regista non penso che ci abbia pensato a questa cosa, però io la trovo veramente interessante, perché rispecchia esattamente quello che succede. Non so se anche a te sia mai capitato, nel caso scrivimelo nei commenti, però io, andando ad analizzare quello che mi è successo nel passato, mi sono reso conto che effettivamente anch'io sono un po' cascato in questa trappola. Adesso andiamo a vedere la seconda scena. Anche questa, secondo me, è molto interessante e anche questa ovviamente ha dei casi concreti. Borel! Borel, avanti apri, sono Will! Greta! Dov'è Borel? È morto. Morto? Come? Gli avevi dato un decennio. Si è ubriacato fino a morire con ancora nove anni sull'orologio. Non ci posso credere. Mi dispiace tanto. Addio, Will. Sono sicuro che alcuni di voi abbiano già capito dove voglio andare a parare. Infatti, nel caso in cui aveste letto qualche libro di finanza personale, oppure anche magari qualche articolo di attualità, abbiate già capito il collegamento. Quello che voglio sottolineare di questa scena, veramente in maniera breve, è un tipico fenomeno che magari non tutti conoscono, che riguarda tutte quelle persone che si arricchiscono velocemente. Infatti, uno dei motivi fondamentali per cui, ad esempio, io non ho mai giocato d'azzardo, ovviamente qualche partita a poker con gli amici per divertimento, ma uno di quei motivi per cui io non gioco mai il super in allotto, il gratta e vinci e tutte queste cose qua, innanzitutto è che le probabilità sono a mio netto sfavore. Mentre a me piacciono tutti quei giochi che mi mettono in una posizione in cui ho più probabilità di vincere, soprattutto se ci stanno di mezzo i soldi. Ma un'altra cosa che mi tiene veramente lontano da tutte queste cose è che ci sono diversi studi, ve li mostro qua a schermo, che dimostrano come chi vince il jackpot da 200 milioni rischia di diventare più povero in 24 mesi. Infatti, ritornando alla scena che abbiamo appena visto, in pratica lui aveva regalato al suo amico 10 anni di vita, ovvero 10 anni con cui poter pagare tutto, perché ricordo che nel film il tempo è denaro, che poi anche nella vita il tempo è denaro, e sarebbe da farci un video solo su questo concetto che io trovo molto interessante e molto sottovalutato. Però, al di là di questo, praticamente lui aveva regalato 10 anni al suo amico e, appena lo va a trovare, la moglie gli dice che è morto. Per quale motivo è morto? Perché non ha saputo gestire quell'improvvisa ricchezza arrivata appunto improvvisamente, e quindi non l'ha saputa gestire tanto che ci è morto. Ora, non voglio dire che fare soldi è così rischioso che rischiamo di morire praticamente il giorno dopo. Oddio, spero che non sia questo il caso. Però il fenomeno che ci sta dietro è un fenomeno reale, tant'è che, come ci sta scritto in questo articolo del Sole 24 Ore, ma ce ne sono veramente tanti altri di studi, adesso ho aperto il primo che ho trovato, chi vince jackpot da 200 milioni rischia di diventare più povero in 24 mesi. Il motivo, sostanzialmente, è semplice. Cioè, fare soldi, gestire soldi, non è da tutti. Non è un'abilità che si impara all'improvviso. È un'abilità che va allenata. Perché non è che si diventa bravi così, improvvisamente, a gestire i patrimoni. È per questo motivo che, secondo me, ma secondo tantissime altre persone, non è che sono arrivato io con questa mia verità, è importante iniziare a investire fin da giovani. Perché? Iniziando ad investire fin da giovani, perché quando siamo giovani, magari possiamo fare degli errori, perdiamo il 50% del nostro patrimonio e magari abbiamo perso, che so, 5.000 euro, che si fanno, insomma, in qualche mese. Al contrario, se noi arriviamo ad essere adulti con un patrimonio tendenzialmente più grande e dovessimo fare degli errori finanziari, rischiamo di trovarci sull'astrico e magari di mettere in pericolo anche delle persone a noi molto care. Non so, la moglie oppure figli, mi vengono in mente. Quindi questo fenomeno è molto, molto comune. Infatti ci sono tantissime star, mi viene in mente Mike Tyson, che dichiarò bancarotta, non so, 2015-2016. Metto muta di aereo perché mi continuano ad arrivare messaggi. Insomma, ci sono tantissime star che diventano povere. Questa cosa sembra impossibile, ma è la realtà. Perché magari queste persone si trovano con una barca di soldi, la prima cosa che fanno, che cos'è? Comprare passività. Si comprano lo yacht, la macchina, la casa. Tutte queste cose, per carità, sono fighe, cioè, anche a me piacerebbero. Però queste cose comportano una spesa. E se noi questi soldi non li investiamo e quindi non gli facciamo generare un reddito, tutte quelle cose che abbiamo comprato inizieranno piano piano ad erodere il nostro patrimonio. Quindi anche questa scena, secondo me, è molto intelligente. Può sembrare buttata lì così a caso. Non so se il regista l'abbia fatto apposta o se magari abbia un background di una persona che ha studiato questi fenomeni finanziari e psicologici, ma è veramente tanto interessante. Ora, taglio la terza clip, perché mi sono reso conto che se no il video dura un'ora, e vado direttamente all'ultima scena. Questa qua è particolare e ci sta tutta una storia dopo. È una storia, secondo me, molto interessante, che vede piccole persone comuni contro grandissimi hedge fund che muovono miliardi di dollari. Ed è una delle pochissime volte nella storia in cui dei piccoli investitori da casa loro, persone con tendenzialmente bassa cultura finanziaria, ho detto tendenzialmente perché in realtà ci sono alcune persone che sono state molto, molto intelligenti e sveglie, hanno sostanzialmente fregato quelle brillanti menti di Wall Street andandoli a fare incassare miliardi e miliardi di perdite. Quindi vediamoci l'ultima scena e poi andiamo a ricostruire questo collegamento e questa storia che, fidatevi, è veramente tanto interessante. Se funzionasse servirà altro tempo. Dayton non è l'unica zona a cui fanno comodo anni extra. Trasferiscimi la mia diaria. Aspetta, l'ho trovato. Questo è l'ordine. Sparare a vista. Agniugre a luce contro le regole, signore. Anche un milione di anni che lasciano la zona. Scusate, piccolotti, ho appena letto che il sindaco di Rio de Janeiro vuole investire l'1% della tesoreria della città in bitcoin. Questa notizia non sapete quanto mi casa? Secondo me sarà il trend del futuro ma torniamo all'argomento del video. Allora, in questa scena si vede un atteggiamento che può sembrare molto particolare ma che secondo me ha un certo parallelismo con un fenomeno che è successo circa un anno fa. Il poliziotto che sta inseguendo il protagonista e la protagonista che cosa fa? Ordina i suoi colleghi di sparare a vista. Gli viene fatto notare che questa cosa è contro le procedure ma lui sostanzialmente se ne frega alla grande e ordina comunque di sparare perché questi due personaggi stavano andando a sottrarre i soldi dall'elite, dall'establishment presente all'interno del film per andarle a distribuire a tutti i poveri e quindi pur di non permettere questa cosa loro preferiscono sparare a vista. Quindi neanche l'arresto neanche il giudice la galera direttamente un colpo in testa sostanzialmente. Perché voglio fare questo parallelismo? Perché nel caso in cui non avesse eseguito la vicenda circa un anno fa è successa una cosa veramente tanto particolare una storia che io ho apprezzato tantissimo fino a un certo punto in cui veramente ci sono rimasto male perché sostanzialmente come vedremo tra poco coloro che erano dalla parte dei potenti quindi l'establishment l'elite ha almeno secondo me giocato molto sporco per cercare di tutelare i propri interessi. Se l'abbia fatto legalmente o non legalmente ovviamente non spetta a me dirlo soprattutto non posso dirlo io ci sono alcune cause in corso addirittura tra la SEC e alcune persone che hanno fatto causa a Robin Hood ancora non ci sta una sentenza definitiva ma insomma andiamo a capire che cosa è successo. A fine del 2020 queste qua erano le azioni di GameStop quindi giravano su valori che vanno diciamo da 5 dollari 10 dollari a più o meno 20 dollari. Quello che è successo di molto molto particolare è che in questo momento storico è avvenuto un fenomeno che in realtà io non avevo mai visto accadere non so se storicamente sia mai accaduto non penso sinceramente nel caso in cui tu avessi informazioni maggiori delle mie magari lasciamelo nei commenti perché lo andrei volentieri ad approfondire. Sostanzialmente quello che successe in questo periodo è che GameStop una società che penso sia famosissima sta in tutti i centri commerciali vende detto in poche parole giochi al dettaglio quindi dischi fisici sostanzialmente tutti gli hedge fund e quindi persone che muovono miliardi e miliardi di dollari vedevano GameStop come una società fallita e quindi l'andavano a shortare detto in pochissime parole perché non voglio fare un pippone di 50 minuti shortare vuol dire guadagnare dal ribasso di un titolo quindi diciamo che tecnicamente si sta andando a danneggiare una società perché anziché investire e quindi cercare di creare valore prosperare creare posti di lavoro creare insomma tutta una serie di condizioni che aiutano la società si va a guadagnare sto semplificando brutalmente dalla distruzione di una società quindi passatemi il termine so che sto semplificando ma spero che questo video lo vedano anche magari persone non proprio appassionate di finanza quindi che cosa successe che questi hedge fund come ad esempio Melvin Capital uno dei più famosi e uno dei più citati stavano andando a guadagnare da anni miliardi e miliardi di dollari dalla distruzione di GameStop in realtà GameStop si stava distruggendo da sola perché è una società che non è stata in grado di innovarsi un po' come fece Blockbuster che fu mangiata praticamente viva da Netflix la stessa cosa stava succedendo a GameStop e quindi questi hedge fund stavano guadagnando miliardi di dollari appunto dallo short di questa società anche detta vendita allo scoperto quello che successe di molto molto particolare è che su Reddit che è un social che in Italia è pochissimo famoso una serie di persone si coordinò per comprare in massa GameStop per quale motivo? perché successe un fenomeno molto raro ovvero in circolazione ci stavano 65 milioni di azioni GameStop ma in quel momento le posizioni short su GameStop erano più di 65 milioni quindi in pratica ci stavano più azioni vendute allo scoperto che azioni reali questo che cosa permise di fare a queste persone queste persone che si coordinarono su Reddit sono persone semplicissime cioè facevano una vita normale quindi non stiamo parlando di investitori professionali di Wall Street e tutto il resto sostanzialmente si sono coordinati e hanno iniziato ad acquistare GameStop tutti quanti in massa la cosa che bisogna tenere a mente è che quando si shorta un titolo è vero che si guadagna dalla discesa di questo titolo ma nel caso in cui il prezzo del titolo salisse ovviamente chi ha shortato inizia a perdere la cosa su cui bisogna porre attenzione per concludere questo racconto è che quando si shorta la potenziale perdita è infinita infatti se ci ragioniamo nel caso in cui noi fossimo long su una posizione il massimo che possiamo perdere è il nostro denaro se io mettessi 100 euro su GameStop in questo momento che sta a 118 dollari e GameStop andasse a 0 io perderei 100 dollari ma se io adesso andasse a shortare GameStop e sta sempre a 118 dollari GameStop potrebbe arrivare a 236 500 1000 che cosa vuol dire che io posso perdere più del 100% e quindi posso andare a perdere più di quello che io sono andato ad investire questa cosa è da tenere a mente perché che cosa successe siccome tantissimi hedge fund erano short sul titolo questi piccoli investitori anche qui sto semplificando perché non voglio fare un documentario su questa storia voglio andare a fare un parallelismo con il film per andare a far capire un concetto che secondo me è molto importante sostanzialmente questi piccoli investitori fecero quello che è chiamato short squeeze in pratica facendo aumentare il prezzo di GameStop siccome appunto si coordinarono in massa per andare a acquistare questo titolo che cosa fecero? causarono delle grandissime perdite agli hedge fund ora per andare a inquadrare meglio questo contesto mi stanno venendo i brividi perché io la trovo affascinante questa storia bisogna capire che alcuni di questi utenti non lo stavano facendo solamente per arricchirsi sicuramente questo è un motivo fondamentale ma se vi andaste a leggere i reddit ovvero come è nata tutta questa storia vedreste che alcune persone appoggiarono questa causa ovvero di Davide contro Colia più per una questione ideale infatti tantissime di queste persone che poi si sono ammassate e sono andate a comprare GameStop ce l'avevano a morte con gli hedge fund perché secondo loro vi lascio in descrizione tutte le fonti o magari le pagine del blog in cui parlano di questo secondo questi utenti gli hedge fund sono il male del mondo perché vanno a speculare su delle famiglie su delle società e sempre a detta loro non ne pagano mai le conseguenze un po' come successe nel 2008 quindi quello che dobbiamo capire è che tantissime persone ce l'avevano a morte con gli hedge fund ci stanno tantissime lettere che se lette fanno veramente riflettere fanno venire i brividi rappresentate tutto ciò che ho odiato durante quel periodo il semplice fatto che voi esistiate ancora è la dimostrazione che i responsabili di così tanta sofferenza durante la crisi del 2008 non sono stati puniti la battaglia che i piccoli investitori hanno iniziato contro di voi per me e per milioni di altri è una questione personale qualche giorno fa ho usato tutti i miei risparmi per comprare altre azioni di GameStop poi ho pagato l'affitto questo mese con la carta di credito e con i soldi che avrei dovuto usare per pagare l'affitto ho comprato ancora azioni di GameStop e tengo la posizione io non venderò questa è una faccenda personale per me e per milioni di altri potete far crollare il prezzo delle azioni quanto volete ma io non me ne vado da nessuna parte io holdo e tengo la posizione però insomma in sostanza queste persone iniziarono a comprare il prezzo di GameStop andiamola a vedere sullo schermo iniziò a salire veramente tanto causando miliardi e miliardi di dollari di perdita agli hedge fund quindi sostanzialmente per la prima volta nella storia gli hedge fund erano stati messi in ginocchio in crisi da dei piccoli investitori che erano riusciti a trovare un cavillo per poter ribaltare ovviamente solo in questo caso il sistema quello che però successe e che è molto interessante perché è un po' quello che succede nel film ovvero che lui ordina di sparare perché i soldi si stanno spostando dall'establishment la parola establishment è utilizzata molto spesso su Reddit in sostanza quindi come succede in In Time in cui il poliziotto ordina di sparare successe una cosa molto particolare infatti dovete sapere che praticamente quando si stava all'apice quindi verso i 460 dollari si parla di una salita rispetto a quando è iniziata tutta questa storia del 5000% quindi immaginatevi questi fondi questi hedge fund quanti soldi abbiano perso poi in realtà ci sta tutta un altro commento da fare perché alcuni hedge fund in realtà erano usciti in tempo ma vabbè questo qua è un dettaglio però insomma quello che successe che secondo me è veramente brutto è che praticamente all'apice Robinhood che è un broker che fu utilizzato appunto da tutti questi investitori bloccò ad un certo punto la possibilità agli investitori individuali di comprare GameStop e quindi di andare a mettere ancora più in crisi gli hedge fund perché? perché quando tu hai una posizione short se tu sei in perdita e la vuoi chiudere devi andare a comprare ovviamente proprio perché tu lo hai venduto allo scoperto ma nel momento in cui tu hedge fund decidi di accettare la perdita e quindi acquisti il sottostante non fai altro che alimentare la domanda quindi alimentando la domanda causi un innalzamento ulteriore del prezzo andando a mettere in difficoltà un altro hedge fund questa storia è veramente bella veramente tanto interessante e quindi lo short squeeze sostanzialmente che cosa fece? fece sì che gli hedge fund si fregarono a vicenda perché nel momento in cui un hedge fund andava a chiudere il suo short andava appunto ad alimentare la domanda e andava a mettere in difficoltà un altro hedge fund che magari a sua volta era costretto ad acquistare e andava a sua volta di nuovo a mettere in difficoltà un altro hedge fund quindi quello che successe è che arrivato all'apice quando veramente tanti hedge fund furono messi in ginocchio e furono costretti ad aumentare i propri collaterali di miliardi e miliardi di dollari Robinhood l'app più famosa d'America ma anche i Toro in realtà che è molto famosa che io disprezzo abbastanza magari ci farò un video a parte bloccarono gli acquisti ovviamente bloccando gli acquisti come vedete a schermo il prezzo crollò improvvisamente ed è ovvio se un asset può essere solo venduto non può fare altro che scendere visto che nessuno può acquistare scusate piccola parentesi ai piccoli investitori fu fatto questo ai grandi investitori invece fu permesso vendere le proprie azioni e quindi diciamo che gli hedge fund attraverso questa manovra riuscirono sicuramente a limitare le perdite ora io ho semplificato in realtà ci sarebbe veramente tanto da dire però insomma Robinhood è andato a fare una manovra molto scorretta questo è l'ordine sparare a pista consideriamo che in quel momento tantissime personalità molto famose politiche e non quindi star sportive oppure no si smossero per questa cosa perché fu un fatto veramente eclatante per una volta che i piccoli investitori stavano vincendo e stavano guadagnando ai danni dei grandissimi investitori dell'elite mondiale dell'establishment fu introdotta questa cosa che ovviamente fermò il gioco ovviamente Robinhood non ha mai ammesso questa cosa questo è logico anche perché sarebbe veramente qualcosa di molto molto grave Robinhood ha delle sue motivazioni si sono ancora delle cause in corso ma sappiate che questa cosa ha fatto veramente il giro del mondo fu un fatto veramente tanto eclatante e di rilevanza secondo me storica addirittura ad esempio Alexandria Ocasio Cortez che è una parlamentare americana scrisse su Twitter che questo era inaccettabile che avrebbero indagato di più perché volevano sapere precisamente cosa fosse successo ora come ripeto la storia è molto complessa però secondo me il concetto con In Time ci prende veramente tanto perché Robinhood lo vede un po' come quel poliziotto che agisce andando appunto a manovrare il mercato forse in maniera illegale esattamente come il poliziotto di In Time dice di sparare a vista che ovviamente non era la procedura lascio a voi deturre cosa sia vero e cosa sia falso l'unica certezza è che il film In Time secondo me merita il finale vabbè buttiamolo lasciamolo da parte però sicuramente il film merita di essere visto o addirittura rivisto con questo ho finito un saluto e alla prossima e alla prossima